Si sta consumando un super alibi al 110% per il governo, è una cosa inaccettabile perché il governo dovrebbe, Giorgetti, Meloni, Giorgetti l'ha gestito da tre anni, Meloni da 18 mesi, dovrebbero affrontare questi temi con chiarezza, con linguaggio di verità, portando i dati non solo dei costi ma anche degli investimenti, tutti i benefici e poi ovviamente questo scaricabarile è veramente indegno. Noi abbiamo esponenti di Fratelli d'Italia, della Lega che hanno fatto a gara per estenderlo sul piano applicativo e prorogarlo. Adesso qual è il risultato vero? Al di là delle polemiche, questo governo con questo decreto abbandona famiglie, abbandona imprese in difficoltà, viene meno agli impegni che esso stesso ha assunto. Questo non è assolutamente corretto, è assolutamente deprecabile, non si governa così.